Dopo un tratto di pista battuta che parte da Biancumarial, proseguiamo su una bella traccia nel bosco rado di conifere. Superata l'Alpe Leretta, raggiungiamo la Punta Leretta, che è in realtà un'anticima, peraltro molto panoramica. Un ultimo breve tratto ci separa dalla cima vera e propria. Il Monte Mars ci sovrasta da un lato, ma dall'altro la visuale è davvero ampia e spettacolare. Con il Cervino che spunta dietro al Mont Neri. Mentre più lontano si scorgono la Grivola, la Punta Tersiva e il Mont Glacier. E poi ancora la Becca Torché e la Becca di Vlù. Scendiamo poi su un altro versante, fra paesaggi sempre splendenti. Musica 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 E dopo tanto sole e luce dobbiamo tornare a immergerci nelle fredde nebbie che ancora riempiono le valli